Lorenzo, sai che io sto sempre più pensando che Cody che torna in WWE sia una mezza bufala, poi magari sarò smentito, sarò smentito dai fatti, però strana, strana tutta questa situazione, c'è qualcosa che ancora non mi convince, l'ho detto anche nelle ultime live, come gestirlo? Beh, non lo so, non ho idea, c'è Vrestelmania, io lo farei debuttare dopo Vrestelmania. Nella puntata di Rodista Notte in America, The Miz dovrebbe svelare il suo alleato misterioso nella battaglia contro Rey e Dominic Mysterio. Qualcuno dice può essere Cody, la maggioranza dei siti dice che possa essere Logan Paul, vediamo, però lo scenario migliore, per non inflazionare troppo una Vrestelmania che ha già tanti significati sicuri, tanti match ormai decisi, io aspetterei. Il ruolo dopo Vrestelmania, ovviamente, se l'atleta sia disponibile, se la trattativa fosse conclusa. Parlate di Sani e delle sue dichiarazioni piccanti, delle sue avventure. Beh, beh, lei e Missy Yat non hanno mai fatto mistero di aver avuto tante storie nel backstage. Sani ha tradito anche il suo fidanzato storico, Chris Candido. Missy Yat si è messa anche a giudicare le dimensioni e le prestazioni dei vari Vrestler con cui è stata. Boh, insomma, sono storie un po' pecorecce, venute a galla quando buttarle fuori era comodo, da un punto di vista pubblicitario, per le due. Visto che hanno provato ad aprire siti a derivazione semi-pornografica. Quindi, boh, che volete che vi dica? Cioè, è la loro vita, l'hanno messa in piazza, va bene. Insomma, che i Vrestler tra di loro siano sempre stati molto promiscui e che la fedeltà matrimoniale, anche tra quelli delle federazioni minori, sia spessissimo messa in discussione, ossia traballante, ossia inesistente, è un po' il segreto di Pulcinella, eh? Alessio Moroni. Allora, un dubbio per le lottratrici in Arabia. Eh, i match femminili credo che in Arabia li taglino, addirittura. E probabilmente i fan locali conoscono le combattenti perché, in qualche modo, vanno a vedere sul web, su internet. Però mi raccontava qualcuno, forse Sian Paolo, che tagliavano proprio i match femminili. Tuttavia, i fan, ormai con la diffusione del web, evidentemente le ragazze se le vanno a vedere su internet. Oggi con le VPN, i router e bla bla bla, anche se ci dovessero essere dei blocchi imposti, da un punto di vista legislativo, si riesce in qualche modo ad uscire dalla rete, eh? Logan Paul non lo sopporti, Zendler. È un sentimento condiviso da molti in America e proprio per questo in tanti pagano per vedere gli show dove potrebbe buscarle. Soprattutto quelli di pugilato. Quindi i fan che lo sostengono, lo guardano e pagano. Quelli che lo vogliono vedere con la faccia spaccata, magari non pagano e rubano, ma comunque danno interesse, creano interesse, scrivendo proprio sui social, io non lo sopporto, spero che le buschi, mi sta antipatico e bla bla bla, comunque generano role mediatico. E lui è riuscito ad inserirsi in una nicchia che ora è diventata, più che una nicchia, è diventata un oceano. Eh? Quindi, quindi buon per lui, perché ha sfruttato un'occasione importante ed è diventato un personaggio che ha trasceso il mondo web ed è diventato una celebrità a tutto tondo. Ben arrivati a coloro che si stanno unendo, magari non vi nomino, ma vi vedo. Ben arrivati, eh? Allora, Gabba Stiles, non mi ricordo, francamente. Intanto Seven Fiend ha 14 mesi, thank you! Grazie mille, grazie mille per essere di nuovo all'interno della bonanza bardica. Ah, non mi ricordo tutti i match del DVD di Bret Hart, però il Frank ai tempi me ne diede, parlo di quello originale, me ne diede una recensione molto positiva, quindi sì, il consiglio è quello di recuperare queste proposte ufficiali, eh? Non ho novità su Lacey Emans, non ho visto niente di nuovo su di lei, mentre Gail Kim Ema 994 probabilmente si è trovata nella WWE nel momento sbagliato. Si tratta di una combattente molto atletica, apprezzabile, ricordo alcuni suoi bei match anche nella federazione dei McMahon, ma non era ancora il momento della grande rivoluzione femminile. Vigeva ancora la legge dell'estetica e lei che aveva, e ha un'immagine, diciamo, spicy, particolare, piacevole, ma particolare, evidentemente, non ricadeva nei canoni che ai tempi servivano. Oggi, sicuramente, se fosse giovane come allora, inserita in questo contesto, avrebbe certamente maggiori possibilità di profilazione, anche perché WWE cerca proprio look e provenienze differenti rispetto alla massa. Monster Samu TV, Paperview su Discovery Plus, li potete far arrivare solo voi. guardando in maggior numero i programmi su LIMAX, abbonandovi in maggior numero su Discovery Plus per guardare la WWE, e guardando la WWE legalmente dall'Italia attraverso gli altri sistemi, YouTube, profilo ufficiale WWE, WWE Network, con gli abbonamenti. se questi termometri non si alzano, la situazione non cambia. Purtroppo, questi termometri negli ultimi anni si sono abbassati notevolmente a causa della pirateria. Avete visto, Sky non ha rinnovato con la WWE, e quindi ce l'avete voi il potere. Io più di tanto non posso fare. Quindi, spero che arrivino, per me è lavoro, però più di così non posso dirvi, che è la fotografia della realtà. Allora, 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 Austin Theory, Greg Valentine ha fatto molto bene. Praticamente l'Elimination Chamber è stata divertente, proprio maschile, per la caccia del gatto col topo, di Brock Lesnar con lui, col topo che ha avuto un momento di redenzione e poi ha avuto un grande fegato a prendersi determinate cadute. è vero che c'erano dei tappetini che a me parevano un po' più rinforzati rispetto al solito sui laterali del ring. Magari sbaglio, l'ho detto nella live reaction, magari sbaglio, magari erano quelli di sempre, però insomma ci vuole coraggio e mettersi a disposizione dell'incontro, quindi ha fatto bene. Non è detto però che questo gli garantisca un domani un posto al sole. Di sicuro gli garantisce il rispetto dei suoi colleghi ed è la dirigenza che non è male ma è una cosa che va coltivata col tempo, è una cosa che cresce, non è un mattone e basta, ce ne devono essere tanti. Ma il personaggio di Alexa Bliss Francesco non è ancora chiaro visto che ha dei rimandi persistenti a ciò che era prima. La mia sensazione è che WWE abbia venduto tanto col vecchio personaggio di Alexa Bliss quindi credo che vogliano in qualche modo ricordarlo chissà, magari tornerà a tirare fuori Lily ma estromettendola dalla situazione poteri occulti. Quindi è guarita, è bizzarra all'altalena, ha lo stesso outfit o comunque cambiato di poco magari avrà ancora la bambola ma la terapia le ha tolto i poteri malefici. Io ho come questa sensazione perché al di là di tutto, al di là delle problematiche narrative di un personaggio scuro con delle capacità sovrumane Alexa Bliss vendeva e forse sarebbe stupido non mettere ancora le mani nella gerla contenente quel denaro. Quindi sono un po' sul chi va là voglio avere maggiori indizi o maggiori certezze per ora l'unico indizio che ci hanno dato mi fa pensare a questo potrebbe non essere però l'analisi corretta sulle voci di Cody Tracker ne ho parlato prima io inizio a pensare che forse ci stiano trollando quindi anche qua in maniera un po' democristiana predico prudenza predico prudenza non ho più Francesco dico la verità l'idea del rapporto tra chi guarda legalmente e chi no quella ce l'avevo quando stavo a Sky perché potevo attingere a dei dati precisi o a dei dati che comunque arrivavano da delle fonti attendibili ora invece questi dati mi sono oscuri ma credo che la situazione rispetto agli anni in cui lavoravo a Sky sia peggiorata su D-Max gli ascolti fortunatamente sono buoni io credo che in maggioranza siano dovuti a un pubblico casual e non ad un pubblico diciamo di esperti che non hanno voglia di aspettare così tanti giorni qualsiasi prezzo anche pochi euro al mese è troppo caro rispetto al gratis parlo dell'abbonamento a Discovery Plus e quindi scrocco e chi se ne frega e poi mi lamento se non vengono in Italia se non trovo le magliette che mi vengono vendute quelle nuove senza la dogana e bla 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 però ecco io ragionevolmente credo che rispetto a quando stavo su Sky la situazione non sia migliorata tuttavia non ho più la visione dei numeri e quindi vado a sensazione eh vado a sensazione Cilento su Bobby Lashley anche qui aspettiamo di capire se quello che sta uscendo o quello che è uscito sia vero se è vera la notizia che gira allora almeno 4 mesi di stop se è una balla eh ci hanno intortato e vediamo che accade anche qui la news è stata data da una una fonte che raramente entra in circolo quindi potrebbe essere molto attendibile perché è un ex writer della WWE oppure potrebbe essere un qualcosa di buttato là che viene ripreso e poi tanto è un attimo smentirlo eh quindi aspettiamo di vedere che accadrà già nella puntata di Erodi stanotte in America potremmo scoprire potremmo vedere se Bobby Lashley in qualche modo viene tirato fuori se viene nominato se ci danno un aggiornamento anche in storyline delle sue condizioni fisiche il potenziale successo Heisenberg di un atleta dipende anche da quanto muove il suo merchandising ok però non è un indice unico che fa la differenza ci sono tante altre cose dietro le quinte che possono cambiare in bene o in peggio eh il futuro di un atleta fermatemi un attimo con i commenti perché sto tenendo un indice di risposta con la voce troppo alto e qui voglio dirti due cose almeno una tra due cose è uscita una news che io non ho ripreso credo di Wade Keller che è una persona che in America scrive di wrestling PW Torch se non ricordo male a me è sempre sembrato uno abbastanza posato e tranquillo cosa ha detto Wade Keller durante un podcast ha detto che lui è molto amico di Kate Lee e ha aggiunto che Kate Lee nel backstage della WWE era decisamente ben voluto ma ciò nonostante è stato protagonista di molti atteggiamenti sgraditi alla dirigenza atteggiamenti che lui aveva suggerito Keller a Kate Lee di abbandonare e che Kate Lee invece non ha rimosso quindi Keller in questo estratto che gira dice io gli ho dato dei suggerimenti gli ho detto guarda che qua vogliono investire su di te cambia modi di fare perché tanti tuoi colleghi sono ben disposti verso di te ma quando io ci parlo malgrado tu gli sia simpatico mi evidenziano delle cose che fai che sono molto molto sgradite anche a loro e Keller dice Kate Lee non ha comunque cambiato registro e poi si diceva molto preoccupato probabilmente l'ha visto debuttare in un elite wrestling io no si ci ha preoccupato dicendo l'ho visto fuori forma forse ancora dei problemi a livello cardiaco diceva spero che li abbia superati ma da amico sono sul chi va là perché non mi è sembrato in buonissima salute intanto Edward Base grazie mille primo mese abbonamento qua con Prime thank you è ben arrivato quindi come vedi prendo spunto da questo pezzo introspettivo perché Keller continua a dirsi amico di Kate Lee dice io li voglio bene cioè è una persona che mi sta simpatica però evidenzia come molti ponti se li sia bruciati lui anche sulle confidenze che lo stesso Kate Lee gli avrebbe fatto quindi sì il merchandising è importante pensa a Bray Wyatt quanto ne vendeva ma poi l'atleta deve essere contento poi l'atleta deve essere malleabile alle esigenze della dirigenza l'atleta deve dire ci vado sono presente faccio quando ci sono delle richieste per fare magari pubbliche relazioni o un viaggio intercontinentale per andare a parlare della WB in Cina ad esempio quindi ci sono tanti termometri è chiaro che se vendi parecchio merchandising beh vuol dire che il tuo personaggio funziona però ci sono stati dei licenziamenti anche blasonati Bray Wyatt Braun Strowman e via dicendo dove i personaggi funzionavano e come se funzionavano ma evidentemente non basta il vendere magliette cappellini e bandane per avere una garanzia né di lavoro né di stabilità ai piani alti va bene va bene va bene beh Simon D.Ref non mi sembra non mi sembra che Discovery Plus costi tanto o no costa 30 euro all'anno più o meno quindi sì c'è un prezzo più basso però ripeto chi è abituato a pagare paga chi è abituato a non pagare secondo me non paga a prescindere il prezzo più basso non gliene frega niente troverà una scusa per ritenersi assolto soprattutto quelli di età più bassa chi come me ha superato i 30 ed è già arrivato magari anche i 40 probabilmente ha ricevuto un'educazione che pago perché altrimenti sto rubando chi è più giovane di meno io vedo in alcuni forum legati a gli anime cartoni animati giapponesi cioè c'è gente che dice oh ma guarda che lo vedi gratis qui oppure paghi pochi euro al mese e c'è gente che risponde sì ma pagare va contro la mia filosofia capite la gare va contro la mia l'ho letto per davvero e più di una volta quindi boh speriamo che cambi un po' il vento ma ripeto per migliorare la proposta da WWE io al momento con i numeri social che ho posso fare poco rappresento molti di voi fortunatamente ma non tutta la community che esiste quella che ruba quella che non apprezza le mie telecronache non segue non sostiene non mi dà energia quindi faccio quello che posso ma come vi ho detto più e più volte io ho come la sensazione che più che pensare ad espandiamo ora siamo in una fase di pensiamo a difendere ho questa sensazione Chris Ayan Goldberg non può ritirarsi dopo un match così moscio eh purtroppo purtroppo è quello che è capitato non so se WWE gli offrirà un rinnovo di contratto in Arabia Saudita sicuramente è ancora un'attrazione ahimè questo match con Roman Reigns brucia un po' tutto quello che di ottimo aveva fatto vedere con Bobby Lashley eh allora Francesco è capitato che qualcuno volesse prendere il mio posto ma non ingelosito da quanto guadagno eh c'è gente che ha provato a scalzare MailFriend parliamo di molti molti anni fa semplicemente perché non rientravamo in un gruppo di management che voleva far occupare i nostri posti ai propri affiliati ma fortunatamente Sky vedendo i risultati che abbiamo portato ci ha sempre confermato però ci sono state forti pressioni per almeno dieci anni per mandarci via e per far arrivare al nostro posto dei comici di Zelig o gente del grande fratello perché quelli sì che ne capivano eh però è capitato e nel mondo dello spettacolo capita spesso poesia in movimento per raffone 339 e dopo questo urlo bevo un attimo d'acqua allora non riscattani cosa fa ora il reda ha comprato da qualche anno un bar bello con un sacco di posti all'esterno in riva al lago insieme ad altri soci da quanto ne so in un comune qui vicinissimo dove abito io anzi nel comune più vicino al rione in cui risiedo al rione di Lecco della città che mi ospita quindi ha questo bar insieme ad altri quindi è spesso lì a gestirlo ed è tornato a lavorare per Sky lui non me l'ha detto tra l'altro quindi Fabrizio ti ammonisco ti ammonisco però è tornato a lavorare per Sky e fa le partite della serie C telecronaca le partite della serie C quindi fa queste due cose Fabrizio io lo vedo quando facciamo l'asta del fantacalcio una volta all'anno e ultimamente negli ultimi anni l'abbiamo tenuta nel suo locale quindi c'è ancora ed è tornato a Sky sono contento alla fine il calcio è un po' la sua passione principale è rientrato dalla finestra e pian piano chissà magari col tempo arriverà anche a categorie più blasonate chissà speriamo Alessio negli anni del boom il mettere via i soldi per guardare il pay per view della WWE e quando non c'erano vie alternative guarda quando non c'erano vie alternative avevamo tutto chiaro non c'erano neanche tutti i canali di oggi i Disney Plus i Discovery Plus i Prime di Amazon Netflix però quando dovevi pagare per forza c'erano i tour costanti ogni sei mesi il merchandising l'oggettistica c'era veramente di tutto accidenti allora madusa miceli emma 994 credo che sia italianissima probabilmente nata a Milano almeno così l'hanno sempre proposta adesso vado a vedere anche su wikipedia non è la verità wikipedia potrebbe anche essere sbagliata però anche qua riporta Milano quindi si tecnicamente madusa miceli ex lottatrice anche da wwe è italiana io me la ricordo pure che guidava i mega macchinoni faceva le gare su questi mega macchinoni è incredibile max junior 16 mesi con me grazie grazie mille grazie davvero thank you per il rinnovo dell'abbonamento grazie mille eh allora francesco a te charlotte flair ha stancato come personaggio è la stessa da anni è una regina arrogante quella più forte più bella non sarebbe ora che il suo personaggio venga rinnovato ma guarda ti dirò funziona charlotte da face non è molto amata dal pubblico perché credo che il suo carisma naturale sia proprio quello della hill il personaggio che recita sembra cucito apposta su misura su di lei quindi è anche difficile dire vabbè ora diventa l'amica del popolo la paladina dei deboli perché il pubblico americano ci crede poco ormai charlotte è diventata talmente esperta e specializzata in questo alter ego che è complicato tirarglielo via no usare il punto e croce e portarlo fuori possono esserci dei brevissimi lassi di tempo di charlotte come face ma io credo che sia un po' come il padre no come rick flair faccio il face ma in realtà lo faccio per pugnalarti alle spalle e torno subito hill quindi se a te ultimamente annoia ci sta è una sensazione personale però un personaggio face pensato su charlotte è complicato a meno che tu non scriva una storia molto molto intensa a livello psicologico ed emotivo quindi un cambiamento dovuto a qualcosa che la tocca in maniera pesante in maniera intima che la cambia e la modifica nell'anima ma purtroppo purtroppo queste non sono storie che wb propone in questi anni in questo periodo in quest'epoca quindi sarebbe bello un evento scatenante forte capace di cambiarla di farla far rivedere la sua scala di valori ma wb su questo punto di vista io do pane al pane vino al vino queste storie non le sta più proponendo ma dusa non parla italiano lippino che è probabile da quanto ricordo era nata a milano ma i suoi genitori si erano praticamente quasi subito trasferiti beh discovery sono d'accordo edward base i prezzi sono bassi il servizio è buono vabbè ogni tanto c'è qualche problema ma insomma capita noi telecroniamo tardi oh queste sono le richieste a sky quando c'era la possibilità telecronavamo anche il giorno dopo ora c'è anche la pandemia che ci fa telecronare da casa quindi hanno deciso di fare così voi fateci un ragionamento siete astuti e intelligenti se hanno deciso di fare così è perché hanno fatto dei conti e se vanno in onda con così grande ritardo con le puntate in italiano evidentemente è perché vogliono prendere il pubblico casual perché evidentemente hanno fatto delle ricerche ma questa è la roba che penso io non è la roba che mi hanno detto loro voglio chiarirlo chiaramente è il mio pensiero che non rappresenta loro però avranno visto che evidentemente i numeri d'ascolto li fai con i casual e quindi i casual sono quelli che vanno a targetizzare allora Nico a te è piaciuto? hanno fatto tornare a vincere un match a bianca? beh adesso ci sarà il grande la grande rivincita avresta il mania con Becky Lynch vediamo come andrà a finire Rhapsody ben arrivato a te a Valerio a tutti gli altri che si sono uniti vi dico la verità faccio un po' fatica questa sera a stare con voi perché sto parlando ad una velocità troppo forsennata la live potrebbe durare meno del previsto perché sento proprio difficoltà a parlare ricordatevi che ho ancora i punti in bocca perché ho tolto il dente del giudizio e me li toglieranno alla fine di questa settimana l'Ital l'ho trovata in forma beh all'inizio forse era un po' sfasata faceva fatica poi però col passare dei minuti complice anche la bella accoglienza del pubblico arabo secondo me un po' si è sciolta ripeto non sto tanto a formalizzarmi sugli errori tecnici che ci sono stati anche copiosi nel match tra lei e Becky la cosa che più mi è scocciata è stato che in un momento forse addirittura in due di massima drammaticità abbia coperto male la rivale facendomi capire che quello schienamento che poteva essere così importante anche nel non arrivare al 3 mi ha fatto capire troppo facilmente che non era lo schienamento finale però a parte questo l'ho vista emozionata l'ho vista visibilmente felice di essere nel ring l'ho trovata molto onesta no nelle sue anche nelle sue emozioni molte fingono anche in maniera fin troppo visibile non sono ottime attrici ma a me Rita è sembrata ecco come vi dicevo onesta anche così con questo contraccolpo emotivo no io credo che abbia fatto bene insomma anche una certa età insomma non è vecchissima ne parlavamo in live reaction uno la pensa più anziana perché è ferma da tanto tempo c'ha 46 anni però è tornata a lottare dopo una lunghissima assenza è tutto sommato sul ring ha dimostrato di saperci stare peccato peccato che quel match lì fosse a Elimination Chamber in Arabia Saudita l'ultima tappa prima di Vrestelmania secondo me in un'altra circostanza senza l'oppressione soprattutto su Becchi che cacchio se mi faccio male poi Vrestelmania che succede in un'altra circostanza poniamo a SummerSlam probabilmente il match sarebbe stato migliore io ho visto tanta paura a Elimination Chamber che gli atleti si potessero infortunare anche le entrate nelle gabbie così veloci l'utilizzo estremamente raro della struttura a parte Brock Lesnar che sbatte giù Austin Theory mi fa pensare che siano andati un po' tutti non al risparmio non voglio essere così cattivo ma che tutti siano andati con una marcia in meno e abbiano evitato rischi abbiano evitato i rischi Austin Theory era spendibile per certi versi un po' perché è giovane un po' perché deve crearsi quella stima nel backstage quindi le cadute grosse se le è prese lui però tutti gli altri le hanno un po' evitate quindi quel match lì tra Lita e Becky probabilmente in un'altra collocazione di calendario sarebbe stato ancora migliore mia idea mia idea intanto Simone e tutti gli altri ben arrivati guardo dai su Twitch ti capisco capisco i rinfacci di tuo padre il mio il mio un po' mi rinfacciava tutti i soldi spesi per le riviste del wrestling quando ero adolescente mi dicevo guarda lì io le conservavo le ho ancora sto capitale di carta dicevo Beppe ma mi piace alla fine al sabato non vado in discoteca e ho le mie riviste alla fine fortunatamente si sono trasformate in un lavoro che speriamo possa proseguire ancora per tanti anni Zendler no non è previsto nessun altro evento prima di Wrestlemania quindi al momento al momento la card lo showcase degli immortali salvo qualche variazione imprevista è praticamente delineata 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 Grazie a tutti